Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video ASMR Come state? Spero tutto bene Allora, ragazzi, io ho fatto una cosa Voi mi dovete promettere che non mi prenderete in giro Ho fatto questa cosa per voi che mi fa molto ridere, ecco Però l'ho fatta per voi perché ne voglio bene Perché ho un problema Questo problema alle mani ho delle unghie inesistenti Perché ho un problema di vitamine, non lo so, non riesco a farle crescere, continuano a spezzarsi Adesso vi faccio vedere in che stato sono le mie ucchie Non riesco a farvele vedere bene in questo momento Perché vi devo fare vedere prima l'altra mano Perché ho fatto questa cosa che fa molto, molto ridere Ma voi non dovete prendermi in giro, per favore Ok Ho attaccato delle unghie finte Però non posso attaccarle con la colla Perché si rovinerebbe l'unghia vera sotto Quindi le ho attaccate con lo scotch Per favore non prendetemi in giro, l'ho fatto per voi Per fare Le tappi Decente Perché il video di oggi sarà uno show in tell Della mia collezione di tazze Me l'hanno richiesto Penso sia un video particolare, carino Quindi adesso lo faremo Non prendetemi in giro E godetevi queste unghie Orribili Però Ok, iniziamo Ho messo il microfono qui Sperando che si senta qualcosa Cercherò di alzare un po' la voce Intanto vi faccio vedere le unghie come sono Sono tutte rovinate, rotte E sono rosse Qui mi fanno malissimo Però intanto ho lasciato questa mano senza Per poter afferrare le cose E farò tapping solo con questa La prima tazza che vi mostro È quella da cui sto vedendo la tisana La tazza di Natale La tazza di Natale, carina Ops Ecco Cerco di farvi vedere anche dentro Se riesco Senza far cadere la tisana Un po' difficile Queste unghie sono ingestibili Però dentro c'è un piccolo alberetto Di Natale Ok Ok Allora noi le tazze le teniamo qui Sono due scomparti con di vetro In cui appunto si vede l'interno Abbiamo prima questo E iniziamo Con due tazze di Halloween Prese questa La prima È questa Presa da Tiger Anzi Questa me l'ha regalata la mia ragazza Allora Il negozio Tiger Qui c'è solo Al centro commerciale Ed è Verso la città Io Vivo in un paesino Allora Siamo partite con la macchina Per andare a prendere queste tazze Che sarebbero Questa E adesso vi faccio vedere La seconda Che è questa qui La luce forte È bianca la tazza Quindi si vede un po' male Come dicevo Come dicevo Siamo andate Abbiamo fatto il viaggio Mezz'ora Per prendere queste tazze Arriviamo Arriviamo a casa Parcheggiamo Appena scendiamo Dalla macchina A lei Cade la borsa E si sente Non proprio così Però non vorrei fare un rumore Troppo forte Amore Cosa ti è accaduto? La borsa Dentro la borsa C'era Questa tazza Che io volevo Da tipo Quattro anni Vi dico che Non le ho parlato Tipo per un'ora Sono stata zitta Ero così arrabbiata Il giorno dopo Siamo tornate E me l'ha ripresa Ma ero nera Però Perché lei rideva Mia mamma rideva Io ero nera Però Sono bellissime queste tazze È un po' difficile Perci Perché È fatto un po' strano Non sono strano È fatto un po' strano Perché c'è una rientranza Quindi quando bevi Il liquido Scende giù Andiamo avanti Ok Ovviamente Vi faccio vedere Soltanto Le mie tazze Perché le altre Non mi piacciono Perché Ci sono tipo Tazze Della Nutella Tazze Colorate Che a me non piacciono Mi faccio vedere Solo le mie Che sono bellissime Questa è la mia Tazza preferita Di sempre Perché c'hai gatti Questa l'ho presa In un negozietto Delusato A Londra Quando vivevo lì Che non avevo posate Non avevo tazze Non avevo bicchieri Non avevo nulla E Vivendo da sola Non avendo soldi Sono andata in questo Negozietto Delusato Che capisco Anzi è il massimo Dell'igiene Però quando sei disperata Ti fai andare bene tutto E ho trovato Questa tazza Che Ha Tutti i gatti Disegnati E c'è Gatto figo Tipo Cool cat Sad cat Sly cat Curious cat Strippy cat Greedy cat Thinking cat Fat cat Sporty cat E poi Riniziano E quindi Se ce l'ho Da allora E me la sono portata In Italia Quando mi sono Trasferita qui E La uso La mattina Per bere il caffè Si stanno Staccando Le mie ucchie Magnifiche Scusatemi Ma la mia estetista Melody Non è così brava Ecco infatti Si staccano Ok È stata l'unica idea Che mi è venuta Per fare tapping Perché non ne ho proprio Di ucchie mie Andiamo avanti Quest'altra tazza Mirabellosa Siete pronti Perché è una bomba Tadà Spider-Man Con la ragnatela Nel manico Questa l'ho presa A Vicenza Quando sono andata a trovare Che la mia ragazza In un negozietto Dei cinesi Ha tipo 2 euro 3 euro Che è una cosa Assurda Perché su Amazon La vendono A 10 O 13 Se non sbaglio Ed è Pesante Fatta super bene Proprio Ceramica Che ne so Proprio pesante E' un po' scomoda Devo dire la verità Perché E' una testa E Quelli sono tutte Le macchie del caffè Perché appunto E' scomoda Da lavare E fare Perché Si arriva Con difficoltà Al fondo Quindi non la uso spesso Però è super figa Anche da usare Come portapenne In caso Se mi dovessi stancare Di Usarla Come tazza Perché appunto È difficile Sia lavarla Che usarla Come bevere E purtroppo È rimasta così Immacchiata Dal caffè Però Ecco qua Con le mie unghie Molto bella La sua faccia Faccio vedere Le ultime Due 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 Tazze Quest'altra Quest'altra Stupenda Di Harry Potter Hogwarts Con il simbolo Delle case E Dietro c'è HP Mafia La parte forte Pezzo forte Scusate È Dentro È Stupenda Questa la uso Quando è sporca Quella dei gatti Mi piace molto Questa È molto bellina Non mi sento Più intellettuale Che Vorrei essere Ad Hogwarts Usò questa Questa mi è stata Regalata Mi piace tanto È molto bella Molto elegante Diciamo La mia ultima Tazza È Molto bella Lo so che lo dico Per tutte le tazze Ma Questa è la mia Piccola collezione A cui sono davvero Affezionata Ecco L'unica tazza Forse Che non mi piace E Quella Da cui sto bevendo La tisana Perché non è mia Però È di papà natale Quindi Ce la facciamo andare bene E anche perché È bella grande Quindi ci sta Tanta tisana E quindi Va bene così Per noi Ecco Adesso vi faccio vedere Sperando senza far cadere Nulla L'ultima tazza Spero che Alcuni di voi Si ricorderanno Monster Allergy È un cartone Che facevano su Su Disney Channel Forse Non mi ricordo assolutamente Comunque Su Sky Quando ero piccola Facevano su Tipo Le dieci Di sera Quindi tardi Per me Che andavo L'elementare E io lo guardavo Ogni sera Mentre aspettavo Che mio papà Tornasse da lavoro Mettevo sul divano E lo guardavo Porta di sonno Così Però era bellissimo Perché c'erano i mostri I mostri buoni I mostri cattivi È sto tipo Che ogni volta Che c'erano i mostri Stanno notiva Quindi mostri Allergy Stupendo E quindi Questa tazza Ce l'ho Da quando sono piccola E penso sia La cosa Che abbia Più valore Che possiedo Valore affettivo Ed è tutta Rovinarla Tutta fatta Rigata Ma non la butterei Mai Neanche se si rompesse Mille pezzi Penso che Mi metterei là A incollarla Pezzo per pezzo È bruttina Perché Questi Ovviamente Non sono i personaggi Principali Però È il valore Che gli do Che la rende importante Ok ragazzi Queste erano Le mie tazze Pochine Però Togliamoci Queste Mille Oh mio dio Insieme Che Non le posso più Ecco fatto Già mi sento meglio Senza Quelle cose Allora Spero che il video Vi sia piaciuto E vi abbia Rilassato E intrattenuto Un pochino E Non la E vi auguro Una Buonanotte 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 Buonanotte